ri buongiornissimo a tutti belli e brutti secondo o primo video carico prima quello sulla juventus o prima quella che vedremo vedremo come mi gira allora cosa volete fare all'inizio quando aprite il video cosa dovete fare iscrizione canale la campanellina e soprattutto a pollicione 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 ragazzi 19 iscritti per arrivare a 1500 mi raccomando 19 iscritti per arrivare al primo obiettivo del canale poi sapete già no allora allora bravi tutti bravi tutti poi parliamo di conte bravi tutti ormai io neanche non mi preoccupo l'ho detto anche ieri così su un video veloce dopo 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 il post partita ormai neanche non mi preoccupo qui di questa juventus perché secondo me hanno raggiunto un un grado di maturità i ragazzi bravi tutti quando c'è da criticare si critica quando c'è da elogiare si elogia non è che vai sempre contro corrente sempre per andare contro perché ci sono se ci sono sempre i soliti che hanno la malattia l'allegrite no quella di si contesta se fa male se fa bene si elogia ovviamente quei due anni precedenti non ce li dimentichiamo è quello schifo che abbiamo visto due anni in due anni quest'anno siamo partiti un po un po fuori fuori assetto diciamo le partite non erano convincenti e vincevamo a stento poi segnavamo tutti in difesa col sassuolo abbiamo fatto vomitare col bologna abbiamo fatto vomitare possiamo perdere gli errori arbitrali io parlo adesso di gioco e comunque comunque adesso pare che la squadra abbia trovato un suo assetto e i ragazzi vedo che si divertono ragazzi vedete che io batto sempre quel chiodo là prima di tutto c'erano da eliminare le mele marce c'erano da eliminare le mele marce quelle purtroppo avevano destabilizzato l'ambiente bisognava fare piazza pulita prima è che purtroppo elkan è intervenuto troppo tardi quell'altro cuginastro lì aveva ormai aveva fatto talmente e talmente tante di quelle capellate che per rimediare a tutti gli errori ci vuole tempo perché per ricostruire ci vuole tempo per distruggere stai poco ma per ricostruire ci vuole tempo e io devo fare i complimenti ai ragazzi come dice allegri poi ovviamente lo sapete la mia idea che io non sono un allegriano e io spero che allegri vinca e che a fine stagione vada via perché voglio vedere la juventus giocare giocare comunque però adesso io come vi ho detto ad allegri non dico niente perché come dico sempre vuoi giocare di merda basta che vinci adesso anche giochiamo un po bene quindi non puoi dirgli niente no perché adesso chi critica i ragazzi allegri non è obiettivo non è obiettivo ovviamente non c'è questo gran calcio perché noi non proponiamo in attacco noi solo difendiamo in attacco vanno come dire come si può dire vivono di 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 della giocata del singolo perché siamo perché c'è c'è valore lì davanti e quindi per quello anche la buttiamo dentro perché se ci fossero giocatori un po più normali le partite queste qui finirebbero tutte in pareggio però però c'è il gruppo c'è il gruppo questo mi interessava prima di tutto c'è il gruppo il gruppo è il gruppo e è sacro come diceva marcello lippi il gruppo è sacro prima di tutto quello poi il resto viene dopo perché i ragazzi vedo che giocano si divertono e si aiutano fanno cerchio e bisogna dare atto bisogna dare atto che secondo me allegri nel bene o nel male è saputo costruire e ci è voluto a tempo ma poi ci sono stati disastri di tutti di tutti i colori e quindi sono stati anni tribolati questi qua pian pianino ne stanno bene ci stiamo stiamo venendo fuori quindi quindi questo come detto è il cane l'anno zero però parliamo della della partita a tutta la difesa completa da tutti quanti un 66 e mezzo perché secondo me bremer monumentale danilo fa il suo gatti qualche sbavatura e gatti 6 da bremer 7 danilo 6 e mezzo per in dol 6 di tranquillità ha fatto una parata sola quindi non c'è tanto becchenni 9 meccenni 9 per io mi sbilancio con i voti meccenni e ragazzi veramente texar ranger quello quel ragazzo di bravo 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 meccenni a meccenni do un 9 perché veramente senza meccenni senza rabbio questa juve non gira è inutile senza meccenni senza rabbio questa juve non gira saranno giocatori non eccelsi però questo abbiamo questo abbiamo un meccenni di inserimento di impostazione di 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 garra core e dappertutto meccenni e dappertutto veramente in l'anno che è stato mandato in prestito gli è servito da lezione brava società hai fatto bene locatelli 7 perché giocato bene e benissimo locatelli 7 quindi bravo bravo anche lui amire ti do un 66 e mezzo perché anche lui anche lui sta facendo il suo quindi non abbiamo un 66 e mezzo lo vedo lo vedo che sta crescendo anche lui lo vedo che sta crescendo quindi quindi va bene va bene va bene così poi io quel costi ce li continuano piacermi colori e l'unico neo che si era un po meglio perché abbiamo giocato contro una squadra che io non so come quella come questa squadra ha fatto ha rifilato quattro pere al al napoli proprio vuol dire che il napoli è è finito è finito io non lo so come come una squadra come il napoli da prima in classifica si trova l'anno dopo in queste condizioni è dura da capire io non non ci sono dentro lì sul napoli perché non seguo però gli è successo qualcosa di grave secondo me perché non puoi prendere quattro gol dal frosinone non puoi e comunque costi ci comincia continua a non piacermi io non lo so pensi parla già di arabia per costi c'è che va bene se non va non va se non va non va poi andiamo su su vlaovic e scusate su 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 milic o tre gol 8 8 milic 8 versicchio lo so che non ti va milic però segna si dà da fare una tripletta meno di otto non gli puoi dare giusto milic 8 bravo fatto il suo ha tenuto poi entrato vlaovic lo vedevo che entrato un po scazzatino a vlaovic do cinque e mezzo perché non ho visto il solito impegno quindi a tutti i subentrati do un 6 di stima vlaovic non l'ho visto tanto scazzatino a me quelle cose lì non piacciono e poi ildiz il ildiz il solito car armato il solito car armato anche segnato da un 7 pieno a ildiz perché ormai è una certezza ragazzo è una certezza quello un cracks non vendetelo perché non vendetelo guardate piuttosto di vendere ildiz davanti fatto un altro sacrificio ma non ildiz guardate cosa vi dico fatto un altro sacrificio davanti cioè non parlo di ken perché ken per me non è neanche un giocatore non è giocatore da juve non è neanche un giocatore di pallone fatto un altro sacrificio lì davanti ma non ildiz perché quello veramente sarà un ad allegri da un 7 7 perché è giusto dare a cesare quel che di cesare bravi tutti bravi tutti io continuo a dire che questa squadra ormai è matura sono tranquillo adesso prima volevo la continuità per vedere per vedere se questa juventus veramente meritava fiducia o ragazzi abbiamo perso una partita è in tutta l'annata abbiamo perso una partita quella col sassuolo che è stata una partita non so neanche io come definirla quindi che cazzo vuoi dire a questa squadra qua cazzo li vuoi dire allegri 7 la squadra matura sono tranquillo adesso vediamo domenica martedì col sassuolo speriamo bene col sassuolo ne parleremo a tempo debito e parliamo un po di calcio mercato allora si parla dicono che conte ha incontrato il mila seguivo lo zoccolo duro lì hanno detto che conte ha incontrato il mila ma anche tiago motta ha incontrato i dirigenti del mila ormai adesso si sta impostando tutto per l'anno che verrà adesso si incomincia a contattare giocatori a preparare gli acquisti per l'anno prossimo è ovvio anche il napoli quante volte ha contattato conte l'avrà contattato anche la roma magari il milan ma è normale questo non è che per me tornerà conte a meno che non succeda perché dicono i soloni dicono che allegri aveva detto a il can che questo sarebbe stato l'ultimo anno adesso pare che ci abbia ripensato che vuole rimanere la juventus allegri questo dicono i soloni e poi poi metto le mani avanti non dico io sono ancora convinto che torna conte prima o poi conte tornerà la juventus diciamola così diciamola così se non quest'anno che verrà però per me già quest'anno e questo volevo dire di conte che ha incontrato dei dirigenti del milan adesso vedremo cosa succederà la stagione ancora lunga la stagione ancora lunga e poi ovviamente diamo già un ben un benvenuto a giallo giallo a questo fatto con questo fatto e poi si parla di questo samarzi adesso è venuta fuori sta che pare che con napoli è sfumata la trattativa perché samarzi vuole la juventus questa un'altra storia che dicono i soloni che samarzi vuole la juventus qualche canale si è già esposto e ha detto che samarzi è già è già della juventus se non a gennaio a giugno qualche canale l'ha già detto adesso vedremo 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 cosa succederà però io sono so 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 che la juventus è molto 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 interessata stanno cercando di rimare per copp myers quello veramente ragazzi è un super centrocampista quello veramente una potenza juventus fai di tutto per portare copp myers copp myers proprio proprio nome 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 di film film americani di fantascienza porta copp myers e juventus porta copp myers e prendi quello quello veramente è un bene e poi come ultima cosa andate sulla community del canale perché ci sono i sondaggi ne ho messi due questa mattina se già qualcuno è venuto a votare mi raccomando i sondaggi perché io metto anche così vi divertite un po ho messo due sondaggi andate lì a spulciare mi raccomando questo volevo dirvi sulla partita complimenti a tutti belli e brutti complimenti a ragazzi complimenti a tutti quanti andiamo avanti troveremo la lazio di sarri che la lazio diciamo che ci porta un po fortuna speriamo bene ma questo ne riparleremo ad aprile ad aprile e bollicione iscrizione al canale like campanellina altro non c'è da dire no ragazzi mi raccomando fatti bravi fatti bravi forza juve sempre in culo i guufi e noi siamo i semi finali intanto tiè tiè